I prezzi dei carburanti volano alle stelle 2 euro al litro per la benzina, quasi 17 euro in più per un pieno rispetto a un anno fa. Uno spiraglio di luce in una situazione dalle tinte fosche viene dal rapporto pubblicato dal Codacons sul proprio sito internet. L'associazione dei consumatori infatti ha stilato un elenco delle cosiddette pompe bianche, ossia dei distributori indipendenti presenti in tutta Italia, divisi per regione. In Emilia Romagna ne sono 136. Secondo l'associazione, grazie a questi distributori è possibile oggi risparmiare fino a 10 centesimi di euro per ogni litro di carburante per un risparmio annuale che può arrivare fino a 200 euro ad automobilista. L'elenco è comunque in costante aggiornamento, per questo il Codacons invita i consumatori a segnalare l'apertura o la chiusura delle pompe bianche in regione, indicando i distributori indipendenti più convenienti o quelli che pur essendo non logo applicano prezzi sopra la media.